Buongiorno Presidente, ascolti una notizia, una informazione, la precedente campagna elettorale delle regionali avete avuto un grandissimo successo, c'è stata la lista della Lega ma c'è stata anche la lista Zaia, normalmente in campagna elettorale si cerca di avere più cartucce possibile, come mai non avete voluto fare un'ulteriore lista Zaia che a nostro avviso avrebbe avuto senz'altro un ulteriore successo? Perché non ho voluto io? Perché penso che non sia corretto avere nome di liste dove il candidato non ha quel nome, punto e basta, in tutto il Veneto hanno trovato una lista Zaia ma c'è Zaia, sono qui a sostenere Casson, è una scelta mia peraltro, la Lega dava il benestare per fare le liste civiche, penso che chi va in giro per il Veneto a fare liste civiche quando non è candidato ha altri obiettivi, siccome ognuno deve fare, occuparsi delle cose per le quali è stato eletto, si fa così, io non ho velleità di costruire partiti, di fare campagne, il Veneto mi ha mandato in regione e Zaia resta in regione. Ogni riferimento, qualche colore particolare è probabilmente voluto.